Eccoci qua con il nostro modulatore, sentite il fluscio portante, siamo con la portante a 9 mega, l'uscita è di ben oltre 7 db. Adesso siamo con la modulazione all'80%, adesso siamo con la modulazione al 60% come da standard, adesso la porteremo a 80% e 100%, qui siamo al 100% di modulazione, quindi i picchi dell'audio avendo ridotto anche aria sono solamente sedibi di differenza.